Faccio modellismo principalmente perché mi rilassa perché comunque è un lavoro che richiede abbastanza concentrazione è un passatempo che mi piace poi mi piace trasformare dei pezzi di plastica in qualcosa che sembra reale Il modellismo lo pratico principalmente a casa però come in questo caso posso anche vacanza o in qualsiasi posto ci sia la possibilità di appoggiarsi gli strumenti posso portarli dunque o una cassettina con dentro le cose essenziali certo non ho i colori, aerografo e compressore eccetera però il lavoro iniziale diciamo dove non serve la verniciatura posso farlo in qualsiasi posto gli strumenti appunto di base servono delle lime delle limettine tipo quelle delle unghie un bisturi e un tronchesino per staccare i pezzi principali di plastica dallo stampo Allora il modellismo quando posso dedico almeno un'oretta al giorno però dipende appunto dal tempo libero essendo un hobby che si svolge nel tempo libero avendo anche tante altre cose da fare non posso farlo quanto vorrei il genere di modellino diciamo che a me piace un po' tutto ho cominciato con gli aerei dagli aerei sono passato i robot poi da quelli ultimamente faccio astronavi di film o di cartoni animati ci sono negozi naturalmente in Italia però sono più su aerei navi, macchinine, carri armati cose così se si cerca qualcosa di fantasy o riguardo a film si fa fatica quindi bisogna andare su internet a presto